Qui ora mi occuperò di una situazione della quale già mi sono occupato un annetto fa e cioè il fatto che vengono concesse le autorizzazioni per impiantare un circo di grosse dimensioni con animali feroci proprio in una zona abitata a pochi metri. Infatti ci sono civili abitazioni, plessi, c'è appunto un bar e quindi io mi domando su quali basi è stata concessa, è stata data l'autorizzazione se si considera il fatto che una belva, e stiamo parlando di animali feroci, stiamo parlando di leoni, tigri o comunque altre specie feline pericolosissime, in un qualunque momento purtroppo per una fatalità, per una svista, per una disgrazia potrebbero scavalcare la rete che peraltro non è altissima ma stiamo parlando di circa due metri anche meno e immaginate cosa potrebbe succedere ove mai una belva del genere scavalcasse e potesse così fare razzie nei pressi del bar, nei pressi delle abitazioni e quant'altro. Stiamo parlando di una zona trafficatissima e quindi non stiamo parlando di un'estrema periferia, in genere il circo viene sempre sistemato, viene sempre allocato in zone più periferiche, lontane appunto da aree densamente popolate. Qui da anni a questa parte si insiste, si persevera sul concedere autorizzazioni all'installazione, all'ubicazione, all'allocazione del circo e quindi poi non so cosa dobbiamo aspettare, che accada una disgrazia e poi cosa dovremmo dire? Ve lo avevamo detto? Insomma prevenire è meglio che curare. È circa la pericolosità degli animali, penso che non ci voglia una zingara o un esperto a far comprendere a chi rilascia le autorizzazioni che i leoni sono feroci, che i leoni sbranano e quando già nella locandina sono indicati, si vedono gli animali, le bestie feroci, beh a questo punto logicamente non si dovrebbe concedere un'autorizzazione a prescindere dal fatto, ma qui non c'entra nulla con la vicenda di cui ci stiamo occupando, che per me il circo con la presenza degli animali dovrebbe essere soppresso, non dovrebbe proprio esistere. È vergognoso che gli animali stiano in un circo, rappresentino motivo e momento di attrazione, venendo di fatto schiavizzati. È un qualcosa che offende la dignità dell'essere vivente e gli animali che sono rinchiusi nel circo sono degli esseri viventi, quindi sì al circo ma al circo senza animali. Ma questa è una mia riflessione all'attere, al margine di quello che stiamo dicendo. È assurdo, ripeto, che si concedono autorizzazioni del genere e allora lo sportellovo del cittadino vuol sapere e chiederà a chi ha dato queste autorizzazioni su quale base e se queste persone non hanno minimamente pensato che una belva potrebbe scavalcare così la recinzione bassa di due metri e immaginate cosa potrebbe accadere. Succede questo anche e soprattutto a Taranto. Forse Taranto è davvero un circo, purtroppo. Grazie.